No, ti prego baby, questo corpo è fatto per essere sfruttato Ho le braccia, la resistenza, ho le gambe, ho la capacità pulmonare Ho le gambe! Ho le gambe! Ho le gambe! Ho le gambe! Oh, le gambe! Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione